L'ultimo rifugio del latin lover vecchia maniera, parolaio ed esibizionista, costretto a camufarsi da hippie per rimediare la serata. Il night con l'orchestrina monopezzo e tutti quei senoni in bella mostra, ma così demodè che ormai nessuno sembra farci più caso, tanto ha l'aria a modo e niente affatto peccaminosa, anzi se vogliamo addirittura da circolo familiare, insomma quasi, roba che se non ricorda il tramvai a cavalli e le orchestrine viennesi tutte donne poco ci manca. Grazie per la visione!